Ospedale di Grottaglie, preservare l'ortopedia e la radiologia è quanto dichiara Mino Borracino, neo-assessore della regione Puglia allo sviluppo economico. Con il direttore generale della Asla di Taranto ed il sindaco di Grottaglie questa mattina abbiamo visitato l'ospedale San Marco. Rispetto alle notizie sulla imminente riduzione a sei ore del servizio di radiologia c'è stata la smentita da parte del direttore generale della Asla Ionica, il quale di contro ha annunciato l'implementazione del servizio con altre 200 prestazioni mensili che saranno fornite dalla struttura di Grottaglie. Mentre per il reparto di ortopedia che fornisce prestazioni chirurgiche oltre che consulenze ambulatoriali per il quale si paventava l'imminente chiusura a partire già da metà ottobre c'è stata la rettifica da parte di Rossi il quale ha confermato con una nota scritta che continueranno ad essere garantite tutte le prestazioni attive nel nosocomio. E conclude così Borracino il nostro impegno per migliorare la sanità pubblica continua a tutela dei cittadini.